Sono Sara Parentela, la presidente dell'Associazione Prologo di Rocca Spina Alveti e volevo invitarvi al nostro evento, ormai una tradizione in quanto si svolge da ben 45 anni, la Sagra dell'Agnello alla Brace che si terrà il giorno 15 di agosto a partire dalle 12 con diversi menu, tutti quanti contenenti pietanze a base di Agnello, soprattutto Agnello alla Brace che è appunto il protagonista di questo evento. In mattinata si svolgeranno dei giochi tradizionali organizzati dai vari volontari dell'Associazione e durante tutto il giorno ci sarà un intrattenimento musicale che ci accompagnerà. In serata avremo anche come ospiti Daniele e Lia Tarantino, partecipanti dell'Orchestra Bagutti. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, il 15 agosto dalle ore 12 in poi a Rocca Spina Alveti. Grazie a tutti!